Poesia elegiaca Publio Ovidio Nasone, 43 a.C., 17 d.C., noto come Ovidio, poeta romano tra i principali esponenti della letteratura latina e della poesia elegiaca, autore di opere il cui corpus è tradizionalmente diviso in tre sezioni. In Tristia dice Sono i poveri che contano sempre il proprio gregge. Commento Se si pulisce la vita di tutti quei ragionamenti, gesti della mente, che non sfociano nella libertà ma nella chiusura, la povertà è una punizione. Per la legge che vige nella coscienza di chi è povero, invece, la povertà è un'esperienza che non è peggiore della ricchezza.